Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro schermo, un graditissimo ritorno oggi sui nostri schermi, Roberta Caronia. Ciao Simone. Benvenuta, bentornata. Grazie. Come va? Molto bene, grazie. Molto bene, molto bene. Ti abbiamo visto in televisione, ti stiamo vedendo in televisione su questa nuova serie TV Rai, insomma su questa serie TV Rai, è andata la seconda puntata, ci sarà la terza puntata il prossimo martedì 1 ottobre, La strada di casa 2. Finalmente un commissario donna in televisione, no? C'era bisogno, insomma, una bella, un bel personaggio. Sì, bello, dai, sì, io sono dell'idea che stiamo un po' spolverando questa cosa del maschile e del femminile, no? Una guerra di generi, facciamo un po' in ritardo, però un pochino, diciamo. Un pochino, giusto un po'. Però dai, sì, è un commissario donna in una indagine prettamente maschile, molto legata ai maschi, in questo caso abbiamo i due favolosi attori, Alessio Boni, protagonista, e Sergio Rubini, e insomma, quindi conduciamo delle indagini separate o contemporanee, però non posso dire molto, anche perché è un super un po' in una fiction, e quindi questa cosa è possibile, speriamo che anche nel mondo reale sia possibile, no? E quindi, no, è un bel personaggio, perché comunque è una che deve, è un po', è bella tosta, deve, deve riuscire a tenere un po' olso e a farsi rispettare avendo comunque una condizione un po' speciale, no? Che è quella un po', no? Delicata della, della gravidanza. Perché poi, in effetti, nella vita reale, in realtà, cose così non si vedono spesso, diciamo, siamo un po' indietro, come dicevi tu, insomma. Beh, insomma, è piuttosto raro, purtroppo ancora non è, non siamo ancora, non siamo ancora pronti, evidentemente, non so, oppure siamo pronti e non sono pronti gli altri che ci, che ci comandano, non so. Senti, tu, il tuo personaggio è nuovo, giusto? Cioè, tu sei entrata in questa seconda, in una new entry, in questa nuova stagione, e come ti sei trovata, insomma, ad entrare in un meccanismo, in una, in un cast, che comunque, eh, la strada di casa, uno era andato benissimo, benissimo, benissimo. Due anche sta andando molto bene, però, eh, come sei riuscita ad entrare? Sei avuto delle difficoltà, oppure se comunque... No, direi di no. Ti sei trovata subito a casa, appunto? Sì, guarda, la cosa bella della, della sette di Riccardo Donna è che sono tutti, ehm, sono una famiglia, si vede che lavorano insieme già da tanto, insomma, e questo, eh, personalmente a me, insomma, non ha, non ha creato nessun problema. I colleghi sono stati tutti disponibili, bravi. No, 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 mi sono trovata bene, devo dire. È stato divertente anche. Abbiamo girato per cinque mesi a Torino, città che amo, alla follia. Senti, si fa molto, un gran parlare in questo periodo dello stato di salute della fiction in Italia, no? Sì. Soprattutto fiction, right, in questo caso. Ehm, che come, cosa ne pensi tu? Come, tu che, insomma, sei protagonista di questa fiction, secondo te che condizioni è, in che stato di salute è la fiction italiana? Eh, guarda, io credo che, che sia una condizione buona, nel senso che sta investendo in progetti nuovi, più innovativi, e sta dando più spazio alle donne, mi sembra una cosa importante. Ehm, d'altronde si confronta con le altre piattaforme, per forza, è necessario. Anche se il target, direi uno, è un target che non è esattamente quello di Netflix o di, di altre piattaforme, comunque credo che sia importante, insomma, anche per i producer, no? Avere un, un riferimento. Assolutamente. Tra l'altro queste nuove piattaforme forse hanno aiutato proprio anche la RAI a migliorare, la RAI, Mediaset, comunque quelli che erano, insomma, i canali classici, no? A migliorare anche le proprie produzioni, perché, insomma, c'è molta più concorrenza adesso, giusto? Ma meno male, cioè io sono per la concorrenza, non è il senso... Ah, ma certo, giusto, giusto. Se il livello, se porta a un livello migliore, a una qualità maggiore, a delle idee più innovative, credo che sia molto bene. Anche per gli attori c'è anche più spazio, ovviamente, perché ci sono, vengono prodotti più seri o non è così? Sì, no, sì, sì, credo di sì, perché comunque ci sono più produzioni spalmate in diversi contest, quindi sì, credo di sì. Poi, ovviamente, quello che conta per un attore è che ti arrivi il ruolo, cioè deve arrivare il ruolo, essere scritto per te, devi tu riuscire a trovare il modo di farlo tuo, no? Cioè ha un valore, no? Senti, ma il ruolo di commissario, no? Quindi è un ruolo molto duro, forte, comunque buono, no? Ti piace oppure ti piacciono più i ruoli, quelli un po' più cattivi, da cattivo? No, guarda, tra l'altro a me la cattiva non me la fanno fare mai, perché anche quando... Perché non ti fanno fare? Chiediamo, fatemi fare la cattiva. Perché non mi fate fare la cattiva? Fatemela fare, mi piacerebbe tantissimo. È in grado, assolutamente in grado. Guardatemi, cioè, non mi fate trarre in inganno da questo sorriso. Da questo sorriso, esatto. No, perché anche quando ho fatto la super mega latitante della moglie di Bagarella, comunque era un personaggio che aveva... Positivo, in un certo senso. Aveva della malinconia, delle cose, delle zone di... A noi non ci piace la malinconia. È così, e quindi c'è sempre una forma etica che mi perseguita, non so. Evidentemente devo diventare una cattiva ragazza nella vita, a questo punto. Beh, dai, speriamo di... adesso no, non diamo cattivi insegnamenti. Che ne so, ma sarà così. Senti, perché poi tu recentemente ti abbiamo anche visto al cinema, no? Sì. Nel film di Lucchetti, giusto? Sì. Momenti trascurabili. Dove facevo l'amante. Vedi, però se non altro... Però almeno... Beh, l'amante, non lo so, non è neanche attiva, però... No, 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 anzi, però... Vedi? Vabbè, esatto. Ok, sì. E ti abbiamo visto sul grande schermo quindi lì, giusto? Sì, è andato in... Che è andato in onda aiuto, la deformazione. È stato al cinema, credo, a marzo. Sì. Beh, dai, lì comunque ti confronti con Lucchetti, che insomma io sono stata contenta, è un grande regista. Ambientato al sud, tra l'altro a Palermo. Ambientato, il testo è stato riambientato a Palermo e il protagonista era Piff e sì, quindi completamente rivestito dal sud. Per cui è stata una bella poi, insomma, c'era Renato Carpentieri, Tony, era anche quello un bel cast. Bella esperienza, dai.